Poi questi prodotti qua, la murrata, è un prodotto tipico di dove sono anche io. Io sono pugliese. Si sente dal mio accento che sono pugliese? Direi di no. Direi di no. Infatti avevo, proprio ero piccolissima, avevo sei mesi che mi sono trasferito, diciamo, e quindi facendo l'infanzia. Grazie. Mi hai dato tutto a me. Vai, se vuoi un altro pomodorino, ci sta. Prenditi un po' di verdurina. Mi hai dato tutto a me. Tranquillissimo. Buon appetito. Buon appetito. Io amo la Puglia. Io la amo proprio, cioè, forse perché il mio ex è pugliese. Sì? Ma davvero dove? Lui di Brindisi. Ah, ok. Io non vivo con i miei. Ah no? Io con mia tia. Ah. Intanto, quando ha dei miei, le do anche il gatto, il borsinè. E se posso, com'è il mio contazio? Se posso? Sì, certo. Lo sai che ti chiedevo tutto. Perché io non sono originaria di Roma, ma sono della Sicilia. Mi sono trasferita per motivi di studio a Roma e mi sono appoggiata sempre da mia zia. Ah. Ah, quindi sei fuorisede. C'è fuorisede. Sì. Il classico fuorisede con mamma Terroni e Paccolo Terroni in arrivo, sì. Io vivo ancora con mia madre e mia sorella. No, io mi muovo e basso da tempo, basso. No, non so ballare. Però mi piace da morire la musica, poi canto. Mi piace il karaoke. Faccio delle figure barbine. Soprattutto quando canti che... Io sono stonato però, mi vergogno davanti all'altro. Ma che ti importa? No. Ma Carola, chiami che Sanremo. Eh lo so, però ti ho guardato tutti. No, no, non ti segui nessuno, tranquillo. Ah, no? No, no. No, no. No, è bello quando ho cantato Goldrick. Ho riscosso molto successo con Goldrick, sì. È il mio cartone animale preferito. Actarus, capito? Cioè, da serie, mamma, quanto era bellino. Il rosso ti piace? Sì, sì, sì. Diciamo che tra rosso e verde è una bella battaglia. Se la giocano in punti. Sì. Per i vestiti di solito scelgo nero. Veramente? Sì. Non lo so, mi piacerebbe un sacco fare tipo di armofromina, quelle cose di... Io quello l'ho fatto. L'hai fatto? Perché, eh, io ho un problema, cioè mi piacciono i colori proprio. Cioè, te lo giuro. Proprio vado matta per i colori. E niente, quindi ad un certo punto ho detto no, lo faccio. E l'ho fatto online perché proprio ho detto voglio sapere. Ok. Perché piacendomi tanto anche i colori accesi mi ero super convinta di essere una primavera. Che non sono, ovviamente. E sono un summer pool. Quindi colori freddi ma brillanti. Tipo lilla. Ok. Lilla acceso, l'azzurro. Ok. 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 Ok.